Aprirà il 4 settembre il bando della Regione Piemonte a sostegno delle sale cinematografiche. Il progetto prevederà la realizzazione di nuove sale e la riattivazione di quelle chiuse o dismesse da almeno 24 mesi per aumentare il numero degli schermi. E poi l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, redi e servizi complementari. La Regione, attraverso i fondi FESR, ha messo in campo 8 milioni di euro con un bando gestito da Finpiemonte, che si aggiungono ai 12 milioni per le attività del comparto. Sono 117 le sale cinematografiche piemontesi e 259 schermi in funzione, che dall'inizio dell'anno hanno attirato 2 milioni e 630 mila spettatori in un comparto che complessivamente occupa un migliaio di addetti. In modo che una, da una parte, le sale cinematografiche riuscissero a rendersi più competitive e più moderne, dall'altra parte a tirare produzione, perché poi è lì anche la sostanza del ragionamento, perché più produzione ci sono, più indotto c'è, più economia gira, più occupazione c'è. In questo senso crediamo di aver centrato l'obiettivo e pensiamo realmente di aver fatto il bene di questo settore, che già funzionava prima, ma oggi realmente con questi 20 milioni può andare ancora più forte, diventare addirittura forse la seconda regione in Italia dopo il Lazio, che in questo caso è imbattibile.